Sabato scorso la Samerettese ha buttato al vento una grossa occasione per fare un balzo avanti in classifica. Pronti via e i Rosso Blu, seguiti sul sintetico di Teramo da circa 700 tifosi, cercano di imporre il loro gioco e ci riescono, anche se senza creare particolari pericoli al portiere Vibratiano. Prima del riposo una decisione dell'arbitro Ganci scatena il nervosismo dell'allenatore locale che viene espulso, seguito poi dal difensore Ferrilli. Tensione anche in tribuna, farne le spese la moglie del presidente Spina che ha un lieve malore. La ripresa inizia ma il gioco è subito interrotto per il lancio di oggetti dalla curva dei tifosi rosso-blu. Arriva anche un bengala in campo, Granci parla con il commissario di campo poi si riprende a giocare. La Samb spinge a quarta d'ora Veronica Ricovelli in area che al momento del tiro viene steso, calcio di rigore dal dischetto Ogliani non sbaglia. Samb 1, Sant'Egidiese 0, palla al centro, poi corner per i giallorossi, Casali di testa va più in alto di tutti e gol, incredibile, dopo un minuto 1-1. Poi Covelli ha un'altra grossa occasione per riportare in vantaggio la Samb ma Di Vincenzo compie un mezzo miracolo. Alla mezz'ora calcio di punizione per il rosso-blu, Bianci dice ci penso io, batte senza rincorsa e palla in rete. Samb di nuovo in vantaggio, ma dura poco, passano pochi minuti, Daniello perde palla in mezzo, un lancio perfetto per Amaddio che poi supera Lima in uscita. E ancora pareggio, il forcing finale dei rosso-blu non ha esiti e, nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, la Samb rimedia un solo punto, sprecando davvero una grossa occasione che poteva valere il secondo posto.